Ho venduto un prodotto bannato e ho fatto oltre 4.700 dollari in tre giorni. In questo video quindi ti mostro che cosa intendo con un prodotto bannato, come ho fatto a trovarlo e quali sono state un po' le dinamiche di questo risultato. Quindi senza perdere troppo tempo ci buttiamo subito nella seconda schermata e infatti qui ti mostro il risultato bene, quindi 4.713,48 dollari con oltre 150 ordini. Quindi il 15 come vedi è stato un giorno abbastanza tranquillo, comunque insomma sono sempre circa 600 dollari però rispetto agli altri due, 16 e 17 i volumi si sono alzati. Partendo col primo step qui ti scrivo trend hunting. Cosa vuol dire trend hunting? Trend hunting è ciò che sto facendo in questo periodo per testare nuovi prodotti, quindi che cosa intendo? Letteralmente significa il cacciatore di trend, cacciare trend. Quindi ciò che sto facendo, oltre ai 3 store che comunque da ormai un anno sto portando avanti, creo periodicamente degli store momentanei su trend attuali o trend che esplodono. Ti posso fare un esempio, è come se all'uscita dei fidget spinner avessi creato uno store su quelli e ci avrei spinto del budget cercando di sfruttare questo trend. Chiaramente non è una cosa che ti consiglio di fare, o almeno non ti consiglio di farlo come primi passi. Cioè nel momento in cui inizi consiglio sempre di trovare un tuo hobby, una tua passione, su cui crearci quindi uno store di nicchia e portarlo avanti con calma, cercando di capire tutte le dinamiche del dropshipping. Ciò che invece sto facendo io è appunto cercare di stare sempre attivo sui vari social, varie piattaforme per capire i trend, quindi tutte le cose in uscita, YouTube, Facebook, Google, TikTok anche mi sta aiutando parecchio a capire i nuovi trend. Vedo magari anche dei meme stupidi che possono esplodere. Ti faccio un esempio proprio recente. E questa non è una cosa su cui ho fatto uno store, perché in effetti ci sono arrivato tardi. Mentre praticamente stavo preparando appunto questo video, mi è venuta l'idea, però ormai ho sprecato quel tempo. Probabilmente c'è ancora spazio per fare uno store su questa cosa al momento in cui sto registrando. Nel momento in cui esce, se ti senti ancora in tempo, fallo senza problemi. Ciò di cui parlo è il meme, non so se l'hai visto, Baby Yoda. Quindi ne abbiamo visti... In questi giorni ho visto un'esplosione di meme, di queste immagini su Baby Yoda per una serie di Star Wars che è uscita recentemente. Letteralmente da un giorno all'altro tutta la mia homepage di Instagram, Facebook, piena, piena di prodotti... Cioè, non di prodotti, di meme su questo Baby Yoda. Quindi infatti, come vedi su Google Trend, negli ultimi 12 mesi, e partendo praticamente da novembre, che poi in realtà ha fatto il picco un paio di settimane fa, la ricerca di Baby Yoda è esplosa. Questo è proprio un esempio di trend hunting, di ciò che sto facendo ora. Quindi cercare e avere anche in un certo senso la fortuna di trovare, di entrare presto o di anticipare questi trend, così da farci uno store, monopolizzare, spingere e fare dei piccoli picchi, come per esempio appunto questi tre giorni. Un esempio che posso riportarti su questo Baby Yoda sarebbe stato creare uno store, magari print on demand, quindi su delle magliette, creare un design di magliette con print on demand, con magari una grafica intelligente, non forse la foto esattamente così, perché poi si hanno problemi di copyright, però insomma un design intelligente, qualcosa che possa convertire, e una sponsorizzata, te lo posso assicurare, su grosse pagine di meme in America con appunto un meme come questo sarebbe letteralmente esploso. Non ho visto nessuno che l'ha fatto, effettivamente, o magari, cioè non l'ho visto personalmente, però sicuramente qualcuno ci ha monopolizzato, perché ovviamente non sono l'unico che fa questo tipo di test, di ricerche al momento, però ecco, quello che ho fatto su questo tipo proprio di store, di prodotto, è stato assalire un trend, un trend in piena carica e cavalcare l'onda finché potevo. Allo stato attuale, sto registrando questo video circa dieci giorni dopo, questo store ormai l'ho quasi lasciato andare, nel senso che ormai sta facendo un 50-70 dollari al giorno di vendita, e non riesco più a spremere così tanto come ho fatto il 15, ancora il 20 e ora non più. Quindi trend hunting è sicuramente un'ottima cosa da fare, probabilmente, e anzi sicuramente, devi avere una certa conoscenza e padronanza del dropshipping, oltre a una padronanza delle ads sponsorizzate e tutto il discorso advertising. Il secondo punto è stato un mix di cose, cioè si è mixato il trend hunting con cui ho trovato questo prodotto e anche un prodotto bannato. Che cosa intendo? Un'altra strategia con cui puoi trovare dei prodotti vincenti, dei prodotti buoni, dei prodotti da cui prendere spunto, delle nicchie da cui prendere spunto, è utilizzare i prodotti bannati da Amazon, i cosiddetti restricted product, quindi prodotti ristretti, prodotti che su Amazon non si possono vendere. Quindi questa è anche un bel modo, se hai dei dubbi del tipo, perché non può prenderlo su Amazon questo prodotto, bene, questa è la risposta, perché ci sono dei prodotti che Amazon proprio, cioè su Amazon non si possono vendere. Quindi per esempio tu per trovare questa pagina, scrivi su Google restricted product Amazon, arrivi a questa pagina, e trovi qui sotto tutte le categorie di prodotti che su Amazon non si riescono a vendere. Chiaramente, cioè sono tipo, non puoi vendere animali per il fatto proprio, non puoi vendere un cane su Amazon, non puoi vendere esplosivi, armi, ma da queste cose puoi prendere un po' di spunto, cioè tipo monete, monete intendiamo magari poterci posizionare in una nicchia, tipo monete collezionabili, oppure dei setup, degli accessori per collezionare monete, oppure drugs che qui si intende farmacia, quindi non puoi vendere per esempio pastiglie, cose così, però magari degli accessori per organizzarle, eccetera, eccetera. Qui su Restated Product ci sono tante nicchie, che sono queste, poi se ci clicchi ti spiega un po' di più in dettaglio cose effettivamente puoi e non puoi vendere su questa nicchia, ma assolutamente è un ottimo metodo, un'ottima lista da cui prendere spunto per la tua nicchia. Questo, ripeto, mi ha aiutato, ma mi ha aiutato di fortuna, perché solo dopo aver trovato il prodotto ho scoperto che era ristretto, ristretto intendo che non potevano venderlo su Amazon, perché rientrava in questa categoria, in una di queste, e infatti su Amazon quel prodotto non si trova, non è possibile trovarlo. Lo prendo solo da Aliexpress e quindi sono uno dei davvero pochissimi che in quel periodo lo stava vendendo, e questo è stato già un'altra grossa fortuna. Per poi arrivando all'ultimo punto, quindi una volta che facendo trend hunting abbiamo trovato un prodotto che stiamo per far esplodere, quindi sta già esplodendo a livello di social, Facebook, Instagram e così via, abbiamo quel prodotto, sappiamo che stiamo cavalcando la vetta di quel trend, sappiamo che nessuno su Amazon può venderlo, quindi se qualcuno lo vuole prendere lo fa da me, dalla Cina, o da quei pochi competitor che ho, quindi tre, quattro competitor, e in questo caso l'ad possiamo fare qualcosa di davvero violento, ma in un senso buono, ovvero comunicare paura e problemi portando una soluzione. Questo dovrebbe essere fatto sempre, cioè per esempio su un prodotto per la cura dei bambini, ovviamente un ad come si deve, deve comunicare quello che è il problema e portare la soluzione facendo appunto entrare il tuo prodotto. In questo caso ancora meglio, cioè essendo un prodotto totalmente ristretto e totalmente nuovo, comunicare paura e problemi, portando poi di conseguenza una soluzione, diventa davvero una bomba, una cosa esplosiva, che come in questo caso ha fatto fare dei numeri davvero davvero buoni. Quindi questo era quanto, era giusto per darti un background a quello che sto un po' facendo quando magari su Instagram posto qualche screen di questo tipo, qualche screen come questo, perché effettivamente essere sempre alla ricerca di nuovi trend mi aiuta e ti aiuta a un certo livello, cioè raggiunto un certo livello di consapevolezza sul dropshipping, a fare buoni numeri. Mixando poi, anche questo lo puoi utilizzare generalmente, senza, per dire, puoi partire, non sai che nicchia utilizzare, che prodotti vendere, i prodotti ristretti da Amazon, puoi sicuramente prenderci spunto, che è un'ottima, ottima cosa, e questo al momento ti può servire come consiglio generale, ma molto molto importante, quindi per portare alla conversione, avendo un prodotto vincente, un, farlo convertire, quindi convertire in clienti, è comunicare paura, problemi, rischio, nel momento in cui quel cliente non ha il tuo prodotto, facendo poi vedere tutte le feature, le caratteristiche, le soluzioni che quel tuo prodotto sta per portare. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto, ti sia tornato utile, perché in effetti questo concetto di trend hunting, e di prodotti ristretti su Amazon, non ho mai visto nessuno che qui su YouTube, almeno, o nei vari corsi che ho fatto, sta portando. Quindi ti ringrazio per la visione di questo video, ti invito a seguire la bullet list che vedi qua sotto, e se vuoi saperne di più, imparare il dropshipping come lo faccio io, ti invito a passare anche dal link nella descrizione di questo video, per il mio corso completo, Dropshipping Keys. Grazie nuovamente della visione, noi ci vediamo alla prossima.